Benvenuti a Verona, questa è Chievo Juve, happy day, un saluto da Piero Gipardo Buon divertimento a tutti Del Piero, l'apertura verso Molinaro, occhio dentro al movimento di Iaquinta Poi il pallone invece è più basso verso Sissoko Palla larga di un soffio Attenzione che è buona questa palla Palla buona verso Esposito, dentro c'è Pelissier, Esposito prova a servirlo, Pelissier Che occasione per il Chievo Parte del Piero con il destro 1-0 Juve, happy birthday, 249 in bianco nero Segna sempre, segna sempre, quinto pallone quest'anno su punizione Del Piero fa la buona Iaquinta Rigoretta e arriva l'intervento con la mano E adesso le proteste, cartellino giallo anche Tovanni che non era ammonito ma altro episodio chiave Parte Iaquinta, destro Sorrentino Iaquinta 2-0 Juve La ribattuta di Iaquinta, tutta la sua rabbia Aveva sbagliato il rigore ma è arrivato prima di tutti Iaquinta va da solo, tocco verso Del Piero, Del Piero, ripane il pallone Del Piero La risposta di Sorrentino Ventivoglio, prova a inventare, la posizione è qui a regolare Allora attenzione a Junco, c'è Pelissier dentro Gras, Pelissier, che occasione glamorosa Prova, questa conclusione traversa di Grieger De Ceglie, è buona la sua corsa Davanti c'è Amaury che si propone C'è anche Iaquinta che ha seguito Pala che diventa buona per Amaury Piro in fondo, Sorrentino Credo che finirà qui E' così, sesta puntata consecutiva